sicuramente non sarà una partita facile ma la possiamo giocare in casa che a noi ci gasa tanto e quindi non vedo l'ora di giocarla si è una squadra che gioca bene gioca bene insieme ma anche noi e quindi sono molto contenta di poterla giocare molto presto si stiamo trovando ritrovando il nostro ritmo anche di allenamento di gara che comunque adesso giocando ogni tre giorni ci fa tanto bene e sono felice perché la squadra è veramente concentrata per i nostri obiettivi